Insieme alle ragazze dell'Accademia dei Make-up oggi abbiamo vissuto insieme l'esperienza di uno shooting moda. Abbiamo creato oggi diversi look, la moda va vissuta in modo creativo. Le allieve durante lo shooting imparano a lavorare in un team. Non c'è solo la truccatrice ma c'è ovviamente anche il hairstylist, il fotografo, lo stylist, c'è un insieme di elementi che ti aiutano a creare questo look e loro attraverso questo shooting imparano come lavorare e come vivere una giornata vera di un set. A presto!